ciao e benvenuto in questo nuovo video su vota la spesa in cui parleremo di md e a questa mia madre si chiude gli occhi per dire che è scema mia figlia allora partiamo da md per un prezzo totale di 59 euro 83 centesima è speso oggi md 60 euro certo perché c'è cosa ci sarà questo lo scontrino che è la prova tangibile della vita ed iniziamo da couscous con cui ho preparato le arancine per mia madre per mia sorella che nonostante mia sorella è intellerante al latte lattosio me l'ha chiesto di farle e quindi tu direi le arancine con couscous sì perché se hai visto il video dell'arancine di riso che ti lascio qui in alto nelle schede che ho pubblicato lunedì saprai bene che ho consigliato il couscous per farle è una mia personale idea che ho provato più volte ed è sempre ben riuscita ti posso assicurare che sono veramente eccezionali sia con il riso ovviamente di cui trovi la preparazione che appunto con il couscous questo è medio senza olio di palma uova lattosio io non so come ci possa essere l'olio di palma nel couscous non capisco vabbè quanto mamma 1 euro 59 dopo tutta questa mia madre che un po cosa addormentava era giusta la tua spiegazione dovevo dire tutto quello che c'era da dire c'è pure una ricetta qui dietro couscous di verdure però non è invitante perché c'è c'è di dentro l'olive le zucchine le carote non c'è più di tanto non mi sconfintano mi piacerebbe molto col pesce ah col pesce dobbiamo fare io già da mo che lo dico per me sì ma ci vuole il pesce fresco perché c'è questo il pesce congelato non rende no assolutamente no non ci siamo nel tempo quello faremo lo farai poi pubblicheremo la ricetta quindi se non vorrai e non vuoi perdertela oh mi sto mangiando... mi sto mangiando... mi sto mangiando me se non vuoi perdertela proprio nel momento giusto in cui dico di iscriverti comunque iscriviti due di mozzarella 1 euro 59 centesimi gli arachidi due la mia famiglia e come mangiando le scimmie no le amano molto gli elefanti ah scusa gli elefanti la famiglia degli elefanti 1 euro 59 la frutta secca oppure gli scogliattolini anche sì certo ecco la famiglia degli scogliattolini 1 euro 59 due pacchi poi abbiamo il diffusore elettrico con ricarica floreal questo 3 euro e 69 centesimi purtroppo un po' questi costano non si è mai capito perché ma costano e sarebbe appunto la ricarica non è quello... no no è così il liquido da mettere con la spina ah direttamente infatti ha la spina di dentro cipolle bianche niente 99 centesimi due confazioni di bastoncini di pollo che ti ho mostrato anche nello scorso video su della spesa e sono già aperti perché mia madre le ha già trasferite all'interno dei sacchetti frigo ce ne sono all'interno 10 sì 2 euro e 99 e sono buonissimi perché l'ho assaggiata anche io la trovo vero? sì molto buone vi consiglio quindi straconsigliati poi questi io avevo già detto che non hanno niente no addirittura infatti una di voi mi ha scritto che sono buoni non mi ricordo chi scusami mi scrivono tanti commenti quindi ho la memoria molto labile però ha confermato la cosa che questi bastoncini di pollo sono buoni veramente quindi però mossi stracchino viva meglio senza lattosio quanti mamma? quattro perché a me piacciono moltissimo aggiunti con la verdura tipo insalata sì non so ad esempio tu fai l'insalata del broccolo bollito ed io aggiungo lo sacchino no il broccolo no sì oppure della verdura sempre bollita e mi piace molto con un filo d'olio ah vedi mi ha dato anche una ricettina mia madre last minute veloce veloce esatto è molto fine molto delicata è bella 59 centesimi ecco perfetto poi abbiamo le carote 59 centesimi c'era un momento di di pausa eh sì questo ammorbidente dat 5 alla lavanda ovviamente io l'ho provato ci ho detto a mia madre non comprarlo perché non profuma più di tanto mia madre l'ha comprato mi piaceva anche il colore sinceramente poi anche il prezzo 1 euro e 45 quindi sì sono 3 litri in effetti 1 euro e 45 però io ripeto mi trovo bene solo con l'enora e vernelle perché profumano infatti tra un po' aiuto mi stava cadendo tra un po' ti farò vedere quello che ho provato pure io questa è la confezione di un completo letto lenzuola ovviamente che sono lenzuola sopra sotto con angoli e due pedere da md sempre ora ti faccio vedere il come si presenta ed è di un bellissimo bellissimo colore guarda che bello celeste con i disegni ecco così si vede meglio disegni viola bellissimo bello bello quanto ma un ottimo tessuto un ottimo tessuto sì è un ottimo tipo di tessuto sì ma si sente perché tiene molto bene d'inverno e fresco d'esame ecco quindi non fa neanche sudare assolutamente no e ha un prezzo eccezionale 19,90 c'è te c'è matrimoniale matrimoniale quindi promosso anche lui ah e mi dimenticavo di dirti che da md mia madre ha preso anche due di salmone perché ho fatto gli arancini esatto come già per rifarcirli quindi non te li posso fare vedere materialmente adesso acqua e sapone 26 euro 76 centesimi iniziamo da cleo nutriente bagno doccio camellia dorata ed olio d'argan esatto due diversi tipi l'altro com'è diversi tipi questo ora sentiamo la profumazione di entrambi allora questo è fiori di iris e nettare di miele interessante vediamo sentiamo la profumazione e poi ti dico il prezzo ottimo che buono questo questo le mandorle è fantastico vediamo questo questo è di profumazione e io non amo le profumazioni dolci però questo con la malla c'è la camelia e l'olio di argan ed è particolare questo invece è più leggero invece questo cosa c'è? questo c'è fiori di iris e nettare di miele è più leggero questo questo è più forte io amo le profumazioni forti ditti forte 99 centesimi l'uno wow ed in ognuno ci sono 400 ml poi abbiamo della marca preferita di mia madre il super 5 secondo me manco se n'è accorta no non se n'è accorta bravo perché è scritto in piccolo super 5 piatti gel concentrato ocean power con vera acqua di mare 2 euro e 30 sarà secondo me ottimo anche per me non me ne ero accorta mi ha fatto accorgere adesso perché io guardo tutto il mio dettaglio e quindi non l'ho visto mi sono persa adesso abbiamo il sole che è un'altra ottima marca pulisce a fondo rimuove le macchie e potregge i colori con glicerina e queste sono delle capsule a quanto ho capito vero? si sono nuove però io non le ho viste ma sono le stesse capsule della Lush assolutamente no queste sono sole devo provarle questa è la prima volta sì però sono le stesse capsule così che sia sempre lo stesso genere sì certo quello da mettere all'interno sono loro sono loro comunque sì certo no per l'amorbidente questi sono i capi sì questo è per la lavatrice sì ed è sole ed è nuova anche questa non c'è mai stata no siccome tu hai detto no 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 mi sono confuso c'è anche quella pelle della lavastoviglie anche all'interno ed è stato guardando proprio questo 15 2,45 2,45 Clinians le salviette struccanti viso occhi e labbra pelli normali e miste 1,72 ecco quelle per la lavastoviglie queste sono veramente quelle e ce n'è 16 all'interno veri platinum sì perfetto 2,59 euro però queste 16 sono consigliate perché sono ottime no no le trovo sempre poi il profumatore Glade questo è sempre con la spina con brattegli odori con un profumo delicato sensual sì 2,80 euro anzi dipende di quello di prima e questo è sempre con la spina e questo è di marca ed ecco la spina e poi questo è di marca allora queste fanno un profumo ma un profumo già dalla confezione che è impressione dalla testa è vero si sente tanto è non solamente aperta ah i frutti di bosco ce n'erano varie fraganze queste sono rosse però i profumi non ci ricordano no no non ho guardato la profumazione non ho del colore ma comunque queste non sapevo che neanche fossero profumate così e queste quanto sono costate? queste sono costate molto poco 99 1,80 euro no vabbè ce n'è 25 quindi no ce ne sono è costato poco per il appunto lo shampoo famosissimo 3,40 euro che sempre costa tantissimo questo non ho capito perché non lo abbassa non l'ho mai capito neanche io i sacchetti cookie gelo 1,10 euro e ce n'è all'interno 20 la carta igienica scala 10 rotoli 1,50 euro e i prodotti che compro sempre io e appunto famosissime ormai sul mio canale 5 in 1 esatto quanto? 2,30 euro questo però l'altro quello lì è super concentrato quello bianco al talco e questo tutto e 2,30 euro costo? si certo hanno promosso le diverse ma sono ottime si fa tutto con questo genere di prodotti si questo è di talco profumo per dirlo ho detto si questa è una profumazione normale generica invece io da acqua e sapone ho speso 9,25 euro ho comprato due cosine tra cui questa penna per dolci che mi serve per una cosa specifica 3,90 euro poi come mia madre i sacchetti l'abbiamo detti quindi non mi vado a ripetere sì io sentivo profumo bene bene sono contentissima che bello ho fatto la frittata mamma mi puoi dare un altro sacchetto perfetto io sentivo un profumo fantastico tutte le mani tutte io non capisco io l'ho l'ho dorato l'ho dorato l'ho dorato perché io sono fissata con l'odorare l'hai capito? con l'annusare sembrano i cani quelli da sagugio da cartufo vabbè però poi l'ho richiuso e intanto tutte e due sono andati a farsi un giro ed ho preso questo Lenore Essenze ispiranti della natura ed è minerali marini una profumazione fantastica 22 lavaggi costa un bel po' 1 euro e 50 1 euro e 50 piccolo è piccolo però la profumazione ne vale la pena anche perché poi rimane concentrata nel nei capi e poi questo vernell perché io ho detto camo vernell blue oxygen 28 lavaggi 1 euro e 50 infine come acqua e sapone mamma mi devi pulire tutti questi perché proprio sono uno schifo appena lo concludiamo sun silk ricarica naturale tè verde e limone per capelli grassi perché non so se hai notato che a me mi si ingrassano i capelli nella parte superiore sotto invece mi rimangono normali e sembra che ogni due minuti io mi debba andare a lavare i capelli perché questo? perché il mio tipo di capello si è abituato ad uno shampoo 1 euro e 15 mentre in un negozio quel negozio di pasticceria in cui ti dico che mi rifornisco io di solito ho comprato due cosine tieni ma? anzi no non c'è no ma non c'è non c'è scritto niente nel senso ho spesso 10 euro quindi non c'è niente da dire in merito me l'ha fatto totale non mi ha scritto le cose separate ed ho preso la frutta candita questa è la zucca questa è l'albicocca e questa è una pera queste mi serviranno per spoiler o non spoiler però ora appena vedrai l'altro ingrediente mi sa che se sei siciliano come me lo capirai e sto parlando della pasta di mandorle questa è già zuccherata ovviamente ed è già colorata perché la vendono anche bianca quindi io neanche ho dovuto prendere il colorante verde infatti la signora mi ha detto ti serve bianca no ci ho detto mi serve verde allora ce l'ho va bene perfetto ed ho preso quindi questa cosa ci preparerò indovina indovinello scrivimelo giù nel tuo commentino il video termina qui noi ti salutiamo speriamo di esserti stati di compagnia stage di compagnia e di averti dato dei nuovi consigli per i tuoi acquisti mandi ormai il saluto speciale ciao 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 ciao